Sì, abbiamo il Presidente Spinelli e allora andiamo subito così. Scusate, adesso vi dico quello che succede. Io, è l'ultima partita che io vedrò, perché non ne posso più di queste albetragge. Basta, questa è la mia ultima partita, io e mio figlio usciamo da Livorno, diamo le dimissioni, ci sarà nominato un sostituto, non lo so chi sarà, nomineremo un commissario. Io ho finito, perché sono scandalose le cose che sono successe, sia a Pescara sia a Stasera. L'avete visto tutti, noi non possiamo tollerare, io non ce l'ho con i giocatori e non ce l'ho con i tifosi, perché i tifosi sono stati esemplari, però io non posso più tollerare queste cose. Se vogliono che io vada via, avranno la soddisfazione che io non ci sarò più nel calcio, basta. Questa è la mia ultima partita, scusatemi, ma questo è definitivo. Che tre, due segnalini a un albitro non vedono queste cose, a Pescara gli deco il patate, basta. Io ho finito, no ma guardi, abbia pazienza, questa è la mia ultima partita, quindi ringrazio tutti quanti, televisione, Sky, ma non me la sento, guardi, sono veramente nauseato di questa parte, dopo trent'anni sono nauseato di vedere questi arbitragi, scusate.